... Frega voi, siete qua a far niente, andate a lavorare. Ma non preoccupatevi, d'accordo, ma allora voi mettete a disagio tutti? Perché siamo tutti, grazie, 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 grazie. Siamo in emergenza, il crime è al collasso. Siamo in emergenza, ieri, grazie, 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 grazie. e anche prima siamo stati spostati un po' briscamente